Ciao a tutti, oggi in questo nuovo video vi parlo di una cassa che ho costruito di una unità per basse frequenze a tromba. Il progetto che ho eseguito è questo qui. Lo schema di smontaggio è spiegato passo per passo, tutti i vari pezzi che ho dovuto costruire. Siccome io ho messo un cono più piccolo di quello che è riportato sul disegno, ho dovuto modificare tutte quante le misure. Esattamente ho dovuto fare tutti i conti per rimpicciolire per farla più piccola, perché il cono che io ci ho messo dentro non era da 24, ma non era da 41, scusate, ma bensì era da 25 di diametro. Questo è da 41, io ce l'ho messo da 25 più piccolo, quindi ho dovuto ridimensionare tutte le misure. Il risultato è venuto bene. Adesso comunque faccio vedere delle varie foto che durante la fase di realizzazione di questo progetto. di questo progetto. vediamo come funziona, come si sente. Vediamo un po'. vediamo un po' di questo progetto. un po' di questo progetto. se E niente, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!